Ora passiamo invece ad un altro argomento in conclusione cioè al centro studi americani, vediamo l'entrata del centro studi americano in via Gaetani a Roma, una conferenza che si è tenuta organizzata da un soggetto che collabora al nostro master, cioè Formiche, una rivista di intelligence. Ecco qui vedete Alessandra Maria Claudia Micelli che ha presentato un volume sul futuro dell'università, un volume sul futuro dell'università che ha visto Paolo Micoli, già presidente dell'ANVUR, parlare dei compiti dell'università di fornire laureati e cittadini migliori. Eccolo qui Paolo Micoli, poi la vicepresidente della Camera Anna Ascali, ecco l'abbiamo vista, qui invece vediamo il parterre con il professor Celotto, Andrea Stazzi, Raffaele Bonanni, Qui vediamo il presidente della Commissione della Camera, Mollicone, che ha parlato del ruolo dell'università nel miglioramento della preparazione dei cittadini e dei quadri delle imprese nel nostro paese. Bene, buona domenica e alla prossima speciale TG. Grazie. 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 Grazie.